Dunque solo un pareggio con Rimini, 1-1 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, fortemente diminuita la produzione di pallegol, biancazzurri prevedibili. L'ennesima conferma, Bonarosa, non da primato ma involuzione, chiara e già duratura. Certo l'organico è questo, con i limiti già denunciati a tempo debito, ovvero a fine mercato, venuti fuori in maniera evidente nell'ultimo mese. Ok la punta, ma le maggiori criticità sono a centrocampo. Ciò malgrado adesso la squadra sta facendo male, giusto rimarcarlo senza tuttavia drammatizzare. Allatitare il gioco, non solo. Ennesima formazione schierata, troppi cambi non aiutano. Al netto delle assenze, Mesic e Tuniov, ben 5 rispetto alla trasferta di Carrara. Se fino a qualche settimana fa biancazzurri non riuscivano a concretizzare le tante opportunità da golle a create, ora il problema è opposto. È infatti diminuita in modo marcato la produzione di occasioni. Il Pescara fa fatica a riempire l'area avversaria. Negli ultimi 30 metri mancano idee e tempi di gioco. La manovra è prevedibile. Nel secondo tempo il Rimini si è abbassato rinunciando a giocare. Atteggiamento legittimo ci mancherebbe. In questi casi servirebbe velocità nella trasmissione del pallone, ma anche più movimento per non dare punti di riferimento e aprire la difesa avversaria. Ecco, questo è sicuramente mancato. Anzi, sta mancando da un po' di tempo. E dire che la partita si era messa da subito nella migliore dei modi, con innegabili vantaggi non sfruttati dal punto di vista tattico. Anche facendo poco le squadre avversarie trovano sempre il gol. Certo, fortuito sulla punizione di Morra deviata dalla barriera, ma sarebbe potuto arrivare poco prima, dopo un capovolgimento e la solita prateria concessa. Rete scongiurata dallo strepitoso intervento di Floriani. La sintesi nei numeri, come sempre inoppugnabili. Appena cinque punti e una sola vittoria nelle ultime sette gare. Un trend decisamente al di sotto delle aspettative. Ora il Pescara si ferma. La sfida di Pontedera è stata infatti rinviata a martedì 5 dicembre alle 18.30. Forse un bene per preparare al meglio il match casalingo col Cesena in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45.